Quanti pesci? Un branco di pesci. Sono qui perchè c'è la megafogna scarica. Qui siamo al porto di Livorno, alto fondale del porto di Livorno. Guarda quanto sono ora, si vedono benissimo. Quanti pesci? Si fanno nutrire proprio con gli escrementi della fognatura. E' vero, la verità. Questi sono dei pesci che mangiano la merda. Merda è il nome tecnico di escremento. Escremento è il termine tecnico di merda. Lo facciamo sempre merda. Va bene. E' un sinonimo. E' un sinonimo. Basta via, facciamo stop. Bene. Ok. Ora ti torna bene. Si guarda. Tantissimi sono. Ok. Ok. Ok.